eh com'è? Manuel frusta ho detto Manuel è una cosa da fare no no frusta mi ti metti andrò a farmi dire andrò settimo giova oh questa è la figlia questa è la figlia è per la scelta è per la macchina andrò a macchina si è per la macchina si è per la macchina